L'arrivo di un'altra massa di aria gelida e umida proveniente dal polo nord ha fatto registrare un brusco calo delle temperature e un'intensificazione delle precipitazioni, soprattutto nevose, su tutto il territorio del Salernitano e anche in prossimità delle coste. Il forte vento di Tramontana ha portato i fiocchi di neve e ovviamente un drastico abbassamento delle temperature. Stamattina diverse zone della città di Salerno si sono svegliate in biancate su tutta la frazione di Matierno. Nelle altre zone collinari si registra qualche disagio, in particolare alla circolazione, a Doiara, Rufoli e Giovi dove la neve è caduta in modo più intenso. Disaggine ai comuni dell'Interland. Il sindaco di Fisciano ha disposto con urgenza la chiusura del campus universitario. Ovviamente le nevicate comportano soprattutto problemi alla viabilità. Disaggine dovevano sul Tusciano, precisamente nella frazione Salitto dove la protezione civile ha invitato la cittadinanza a non usare momentaneamente le automobili poiché si sta provvedendo a sbloccare la strada provinciale bloccata per veicoli in panne. Protezione civile, vigili del fuoco allertati anche nelle frazioni alte di Cava dei Titreni, nell'Agroncino Sarnese e in numerosi comuni del Vallo di Diano.